Il Davide di Bernini 2015 al maestro Ponzi Ermanno Sono qui al posto di mio marito perché non è potuto venire lui l'artista lui ha problemi di salute a questo proposito volevo dire che chi condivide la vita con un artista non è che sempre abbia la vita facile cioè io sono molto solidale con le mogli, con le compagne degli artisti perché è difficile viverci assieme però danno anche grandi soddisfazioni come questa per esempio e allora si passa soprattutto da Parma Parma Parma, sì sì E' profondo su da trovare? E' profondo su No, sono venuta già l'altra volta per salvo d'acquisto Ero venuta per quel premio Non ha fatto grande professionalità? No, sono molto contenta è stata una bellissima serata davvero un'altra volta ancora perché io vivo di luce riflessa vedete sto molto bene grazie senza altro grazie consegniamo il premio grazie